Abbiamo appena finito di celebrare la Messa nella Cena del Signore. Vorrei ringraziare ancora una volta Telemax per l'ottimo servizio che sta facendo in questo tempo in cui siamo tutti bloccati in casa e darvi nello stesso tempo appuntamento a domani, in pieno pomeriggio, alle 3, l'ora in cui Gesù è morto sulla croce, per celebrare sempre qui in cattedrale la passione del nostro Signore Gesù Cristo.